Guardo il Milan alla tv, seguo le partite alla radio, ma mi esalto molto di più Quando esco e vado allo stadio, canto per 90 minuti Anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti Tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove Vincere è quello di cui ho bisogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Sei, un 899, è la data che tengo a memoria AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia Milanisti nel cuore, sono undici in campo e milioni là fuori Rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori E' una realtà partita da qua, la città della Madonnina Innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo l'Iran Tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno Tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno Guardo il Milan alla TV, seguo le partite alla radio Ma mi esalto molto di più, quando esco e vado allo stadio Canto per 90 minuti, anche dopo aver fatto la fila I Rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno Tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno I Rossoneri non restano Grazie a tutti 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 Ok che sei la star in contrastata Però due minuti puoi anche aspettare Tra l'altro Mauro ti devi preparare con Il gesto che fa così Che dici una frase Qua male Allora giovedì scorso mi hai preso in giro per i Poo Tutto il programma Ero sotto il palco Ero sotto il santo Ci devi raccontare Però è stato di buon auspicio Poo pulisi c'è stato di buon auspicio Esatto E adesso e adesso invece Perché cos'è mi predica Adesso il gesto così Partiamo con l'inno Devi subito prepararti Perché può darsi che Devi stare calmo Devi stare calmo Può darsi che succeda Può darsi che succeda Perché poi Perché poi questa è un'estate In cui Sarà mica un solo inno No L'ha detto anche ieri Anche il presidente Scaroni Insomma sono arrivati Tanti giocatori No l'ha detto anche L'ha detto il presidente Scaroni E Lo dico Molto più modestamente Anche io Esatto Il presidente E più modestamente Lo diciamo Lo diciamo Diciamo anche noi Ciao Ciao a tutti Ciao ciao Benvenuti Benvenuti Partiamo Mauro Dimmi tutto Volevo presentarti Un milanista Perché allora C'è un antefatto Il giorno dopo Sempre il famoso Concerto dei Tur Qui a Milanello Venerdì 7 luglio Salutiamo Venerdì 7 luglio C'è stato Un torneo di calcio Su uno dei campi esterni Il torneo Il trofeo Sempre Milan Dipendenti Milan Giornalisti Che seguono il Milan Anche Gli esponenti Di una Foltissima Adesso ce la facciamo raccontare Chat Di Whatsapp Che segue Con grande temperamento Il Milan Che si chiama Go Milan Go E Da questa chat È venuto a trovarci Riccardo Congiu Che è un giornalista Del post Grande milanista E grande esperto Anche di tennis Parleremo di Sinner Ciao Riccardo Ciao Riccardo Ciao ciao Buonasera a tutti Ciao Come va Riccardo Tutto bene Ma tutto bene Tutto bene Ho sentito che avete già parlato Della chat Quindi Sono uscito allo scoperto Io pensavo di restare in incognito Ma allora Riccardo Riccardo Ti dico un grande segreto Dopo tre anni che lavoro con Mauro Non dirgli niente Non devi raccontargli Perché poi dopo Diventa sempre un po' Lascialo sempre all'oscuro Delle cose No ma lui Povero Veramente Non è stato lui Però ecco Però mi interessa Riccardo Poi parliamo di tutto il resto Mi interessa Cioè Le chat tematiche su Whatsapp Adesso stiamo parlando di Milan Possiamo parlare di qualsiasi squadra Cioè Che mondi sono Riccardo? Che cos'è? Sono dei mondi strani Intanto dei mondi pieni di gente Cioè Stiamo parlando di una chat Che ormai Non so Io ho perso il conto Ha superato le 150 persone Ma forse anche oltre Ed è una chat piena di gente Super appassionata Quindi io vi lascio immaginare Cioè I messaggi arrivano di continuo Non ci si sta dietro Cioè Se uno sta lavorando E alla fine della giornata La apre Si trova Non so Può arrivare Si arriva durante le partite Si arriva anche a migliaia di messaggi Tranquillamente Cioè Se ti dimentichi di aprirla Si arriva a migliaia di messaggi E poi ovviamente Ognuno Ognuno c'ha la sua Quindi ci sono Poi dopo le persone Cominciano a conoscere I vari schieramenti Chi è per quell'altro giocatore Quindi C'è tutto un mondo interno Un ecosistema milanista Che Che funziona con le sue regole Un pochino Però interessante Lollo Mi piaceva Sentirmi raccontare Allora la battuta Non dirgli mai niente Bellissima Questa La ricordo Quando avrò voglia di ridere Me la ricordo Però Adesso Al di là del fatto Che sono un chiacchierone Però Mi piaceva Lollo Conoscere questo Questo mondo Mi ha affascinato Questa cosa Sì La prima cosa Che mi hai fatto unire in mente Dicendo questo Parlando di questo argomento È I commenti O le nostre chat Perché ovviamente La chat di Whatsapp È una cosa qua Più o meno La stessa identica cosa E tu pensa che dopo tanti anni Sono tre anni Mauro Adesso ottobre Tre o quattro anni Addirittura Che facciamo Facciamo le dirette assieme Adesso Abbiamo imparato In base ai nomi Delle persone che ci seguono So già più o meno Il messaggio Di che tono può essere E credo che anche Nella chat di Whatsapp Funzioni più o meno Più o meno Nello stesso modo Eh Riccardo Sì Secondo me sì Cioè Quando arriva un messaggio Ad una certa persona Ormai sai già quasi Che cosa sta dicendo Cioè Sì già Succede una cosa in campo E quasi butti l'occhio Al telefono Per controllare immediatamente Se è arrivato Quello che ti aspetti E 90 volte su 100 È arrivato E quindi insomma Dopo Comunque Si creano Sono creati anche dei legami Molte persone Si frequentano Anche al di fuori Anche perché poi La chat è abbastanza sparsa Ah cioè Riccardo Poi si esce dal virtuale Si entra nel reale Si allacciano nuovi Rappo Bellissimo Sì sì C'è il ramo romano Che organizza delle cene Poi arrivano delle foto Insomma Ci sono tutte Io penso che il ramo Antituma Sia di pubblicissimo Tu non lo dici Perché sei gentile No non è vero Ci condividiamo anche Le telecronache No no Penso che sia un must Allora effettivamente Non potrei dirlo Però comunque è così Ci condividiamo Le telecronache Sempre Non c'è Ma quanti su Ma dai Non c'è Io ho qualche domanda Forse vuoi Mauro Il torneo di venerdì Qui a Milanello Non posso smentire È vero Sì sì Sono stato io Ho sbloccato il torneo Ma Pietro Lollo C'era anche Pietro Balzano Prota Che giocava E La leggenda narra Che c'era anche Pietro Che si sta seguendo Io l'ho visto Ah c'è No io l'ho visto giocare Tutto Tutto nel ruolo E cioè Tutto Non mi cazzo È un atleta Pietro Bello concentrare Ha cercato un tiro a giro Ha cercato un tiro a giro Che gli è finito fuori Non di molto Però Allora Tu Riccardo Sei giornalista del posto Esatto Ma ti occupi di Ti occupi di Ma io Diciamo Temi legati allo sport Soltanto il tennis Mentre per il resto Più politica italiana E dintorno Cose meno affascinanti Ecco Allora Allora Riccardo Allora Qui dobbiamo uscire Con una posizione Suma Riccardo Lollo C'è La semifinale Sin Djokovic Il milanismo Si sfida Nole Un rosso nero Fantastico Un campione enorme Sinner È dei nostri È italiano È milanista È stato qui a Milanello Ma anche Nole È stato qui Io ragazzi Sono in crisi Uno Allora Riccardo Uno Un pronostico tecnico Uno Dobbiamo decidere Per chi ti fare E sentiamo anche la chat Lollo Perché Io non so Per chi ti fare Fra Nole E Yannick Dai Allora Parto da Chi ti fare Cioè È facile Bisogna ti fare Sinner Djokovic Ha già vinto Tante volte A Wimbledon Anche se Gli vogliamo bene Perché è milanista Comunque Comunque Diciamo Questa volta Può lasciare Può lasciare Un po' di spazio Al nostro giovane Più promettente E poi Se scendiamo Nel tecnico Le cose si fanno Un po' più dure Perché insomma Yannick L'anno scorso L'ha messo Veramente in difficoltà Perché loro Sono già incontrati L'anno scorso Nei quarti di finale Di Wimbledon Djokovic E Sinner Però Djokovic Sul centrale di Wimbledon Non perde Dal 2013 Ha uno score Credo di 33 partite Vinte consecutive A Wimbledon Quindi Significa che ha vinto Tutte le ultime Quattro edizioni Del torneo Che ha giocato Sono sette partite Ogni torneo Quindi 28 Più le cinque Attuali E gliene mancano due A vincerne un altro E Sinner Comunque Negli ultimi Credo Negli ultimi Negli ultimi 10-15 partite È stato l'unico Giocatore in grado Di togliergli Due set L'anno scorso Quindi parte Da una base Buona Cioè anche un giocatore Che lo può mettere In difficoltà Dopodiché Se dobbiamo fare Le quote Diciamo che siamo A 90-10 Qualcosa di simile Ah addirittura Così Così Sprovoca Ragazzi Io ti fare Contro Io Allora Io posso Ti fare Sinner Accolgo L'invito Ma ti fare Contro Nole Non ce la faccio Scusate Non ce la faccio Vabbè Ma il tennis Comunque si presta Bene Neanche al tifo Un po' Così A forate Perché effettivamente Nelle partite Succedono molte cose Ci si può esaltare Anche per un punto E poi magari Pensare che Il resto del game O del set Vadano a un altro Giocatore Quindi Non lo so Secondo me Comunque molto passerà Dal Alcuni dei difetti Di Sinner Che ancora non ha risolto Quindi Per esempio Il servizio Se riuscirà a servire Una buona percentuale Di prima in campo Già farà una grossa differenza L'anno scorso Non lo fece E Insomma Sono pochi dettagli Però Se la gioca Ecco Se la gioca Non parte sconfitto Però Mi sento di andare Oltre quel 10% Allora Le chat Ti stanno scrivendo Tutti 80-20 Cioè Quindi per loro È più un 80-20 Che un 90-10 Sono un pochino Più ottimisti Vabbè Ma anzi Io metto Metto sempre un po' Le mani avanti Quindi va bene Ah ok O no Se no Fai come quelli Che quando Prima di vedere La partita del Milan Dicono sempre No ma va male Va male Ma in realtà Non è che ci credono È soltanto per una questione Scaramantica Ma sì Io sono un po' così Comunque Non posso Non posso negarlo Io anch'io Sinner E le chat Vedo che sono tutte Schierate con Con Sinner Vedevo prima Il fratello Detox Che scriveva Sinner Milanista Italiano Astronoscente Della nuova generazione Di tennisti Tra l'altro Domanda La faccio anche a te C'è capitato di avere Tennisti professionisti Anche qua come ospiti Oltre a Sinner Secondo te Chi c'è Come tennista Che può arrivare Ai livelli di Sinner O magari Andare ancora Ancora più in alto Ma Tra Adesso siamo Molto fortunati Perché abbiamo Diversi giocatori italiani Che Non c'era mai capitato Di avere una concentrazione Tale di talenti Così In così poco tempo Berrettini Sicuramente adesso Ha passato un periodo Un po' complicato Con gli infortuni Ma È un giocatore Che potenzialmente Può stare Tranquillamente In top 10 E se sta benissimo Forse anche un po' di più Anche in top 5 L'abbiamo visto In questi giorni Ha perso solo Contro al Caraz Ma Insomma Ha mostrato un buon tennis E veniva da Settimane di stop Mentre per esempio Musetti è un giocatore Un po' più da exploit È uno da cui ci possiamo Aspettare magari Che faccia Stanno scrivendo tutti Stanno scrivendo tutti Musetti Forse il più sottovalutato Stanno scrivendo Sì Sottovalutato Sottovalutato Non direi Comunque è tra i primi 20 al mondo Insomma è numero 18 Qualche cosa del genere Quindi Un tenista di altissimo livello Mentre Però D'altra parte Non è uno che Per ora Non ha mostrato La continuità Tale da poter stare Stabilmente in top 10 O qualche cosa del genere È uno che magari Se Un torneo Gli prende male Una volta Roland Garros Sulla terra rossa Che è la sua superficie Principale Quella su cui gioca meglio Può Anche vincere E stravolgere Qualsiasi pronostico Poi ci sono Una serie di giovani Interessanti Che stanno arrivando Cioè Matteo Arnaldi Che adesso Appena è entrato In top 80 Da poco in top 100 Ma anche Luca Nardi 2003 Sono tutti Dei tennisti Che stanno un po' Seguendo questo filone Ma La federazione Ha fatto anche Un grosso lavoro Di investimento Su strutture Allenatori Cioè E ti porto Con questo collegamento Involontario Che mi hai fatto Arrivi proprio Alla domanda Che ti volevo fare Quanto è stato importante Il livello anche proprio Giovanile Fatto dalla federazione Tennis Per crescere Una nuova generazione Di fenomeni italiani Nel tennis E quanto questa cosa Dovrebbe anche Poi rispecchiarsi Nel mondo Nel mondo del calcio Nel tennis È stato decisivo Cioè A un certo punto Si è deciso Di fare degli investimenti Per produrre Un settore giovanile Di livello Anche magari Facendo dei tentativi Che a un certo punto Potevano sembrare Così Sbagliati La grossa cosa Che è stata fatta È stata a partire Dal 2010 Il progetto Che si chiamava Qualcosa come Progetto Campi veloci E cioè Un passaggio Dalla terra rossa Che era la superficie Su cui si giocava Più stabilmente In Italia Al cemento E questo ha permesso Di creare Dei tennisti Che fossero Molto più forti Col servizio Che giocassero Un tennis Più da fondo Mentre prima I tennisti italiani Erano tutti fighi Cioè Avevano tutti Dei colpi Però avevano Il servizio scarso E ogni volta Che andavano fuori Dalla terra rossa Facevano fatica Quindi magari Erano belli da vedere Facevano le smorzate Però poi dopo Era difficile Quagliare Ragazzi Attenzione Adesso Suma Vi fa parlare Di tennis Perché non vuole Parlare di mercato Però No Nel caccio Comunque Qualche cosa Del genere È possibile Cioè Bisogna prendersi Un po' Di Un po' Di Responsabilità E per questo Io sono contento Che il Milan Investa Sui giovani Anche magari Delle volte Un po' Controcorrente Cioè Bisogna aspettarli No Si è parlato Tanto di Dechetelare Però secondo me Queste sono È il tipo di investimenti Che magari Non piacciono subito E poi dopo Dopo un po' Di anni Degia Vedi Abbiamo Cinque tennisti Molto forti Molto giovani Io dico solo Una cosa Riccardo Elollo Io dico solo Una cosa Non giudichiamo E a tutta la chat Il mercato Del Milan Adesso Il mercato Del Milan Dovessimo Io sono prudente Su Renders Perché Con Le squadre Olandesi Belge Sono molto seri E non hanno Problemi economici Le trattative Sono toste Per cui Sto cauto E sto prudente Ma dovesse arrivare Reinders O chi per esso Quindi un centrocampista Metronomo Noi saremmo Noi saremmo Sostanzialmente Ancora A metà Del nostro mercato E ancora Meno della metà Se dovesse esserci Del mercato In uscita Attenzione Per mercato In uscita Io intendo I nomi Che stiamo leggendo Sui giornali Leggo Leggo Di Messias Leggo Di Ballotti Lavoro Di Ecco Adesso torno Adesso dovrei tornare Ecco Quindi Non giudichiamolo Adesso Il mercato Del Minas Giudichiamolo Alla fine Lo dico Riccardo Lolo Si guarda come si diverte No no Ridevo per la luce No beh però Concordo con te Mauro Concordo con te Anche perché Ricordiamo una cosa Importante Mauro Che l'anno scorso Noi tante volte Abbiamo detto Che è un bene Avere Tanti giocatori Da poter schierare Ma quando poi tu Hai la rosa lunga Noi l'anno scorso Avevamo una rosa Molto lunga E ricordo proprio Pioli Anche in quest'ottica Che qualche volta Aveva provato a dire Che è molto più facile Lavorare con una rosa giusta Piuttosto che lavorare Con una rosa lunga È meglio avere I giocatori giusti Tutti forti O perlomeno c'è Ovviamente ci sono le prime linee Le seconde linee Tra virgolette Però è più o meno uguali Però avere comunque Una rosa Non troppo lunga Perché ovviamente Se poi non fai Non fai giocare I giocatori Poi magari sono un po' Scontenti insomma Del loro Del loro Del loro utilizzo Riccardo sul mercato Beh secondo me Quando Comunque quando giochi Su tre competizioni L'anno scorso L'abbiamo visto Siamo arrivati Un po' tirati E ci sono delle cose Che adesso insomma Venduto Tonali Benassero infortunato Fino a Almeno un po' Di mesi Dall'inizio della stagione Ci sono Degli evidenti Spazi in cui Bisogna intervenire Abbiamo già iniziato C'è tempo Però qualche cosa Bisogna fare Magari anche un po' Per rinforzare Le seconde linee È ovvio che Magari Balloture Non si offende Se non gioca Al posto di Teo Hernandez Però Anche alzare il livello Oh ma Riccardo Ma sai che ti dico Ti dico una cosa Riguardo a questo A questo discorso Guarda che non è neanche facile Andare poi a prendere Un vice giocatore Di un titolare Che è ovviamente Grazie a Dio Se sta bene Le gioca tutte Eh non è facile Perché comunque Devi calarti Andare a prendere anche un giovane Magari un giovane E dice ok Io vado lì a giocare Ma magari ho meno possibilità Quindi magari preferisci andare In una squadra Dove magari Ha più possibilità Di giocare Quindi tante volte Andare a prendere il backup Del tuo titolare Che comunque Ripeto Fortunatamente Magari fa tante partite Non è neanche facile Essere Poi farsi trovare anche pronti Ieri abbiamo sentito Sportiello Che parlava proprio di questo Lui ovviamente diceva A me piacerebbe giocare Anche la prima partita Di il campionato Però faceva presente Che ovviamente Non è facile No? Farsi trovare Pronti Per quelle volte In cui si viene Si viene chiamati Magari raramente All'interno di una Di una stagione Quindi anche andare a fare Calciomercato Su quelle che Tecnicamente Chiamiamo le seconde linee Non è neanche facile Perché devi prendere I giocatori Che siano consapevoli Che il loro utilizzo Potrebbe essere Centellinato Si poi Nel caso di Sportiello Dietro a giocatori Come Mignon Insomma Molto difficile Abbiamo visto L'anno scorso Secondo me Tataruzano Non è stato neanche Non ha fatto il suo Tranquillamente Solo che Il paragone A volte Rendeva per i tifosi Poco accettabile Il fatto che Insomma Giocasse al posto suo Vi racconto Ragazzi Vi racconto Quello che mi diceva Fuori dalle telecamere Giovanni Galli Potanto Nostro padre Della patria Sabato sera Sabato sera Eravamo in un Milan Club In Toscana E dietro le quinte Lui mi diceva Vedi Oggi Il ruolo del portiere È cambiato Ma non per il fatto Di giocare con i piedi Mi dice Il ruolo del portiere È cambiato Perché il portiere Ormai Per come si è evoluto Il gioco Deve partecipare Alla partita Dice Giovanni Galli Il portiere Non può pensare Solo di stare Fra i pali E di parare I tiri che arrivano La maggior parte Ci si augura E su qualcuno Prendere gol Il portiere Oggi Dice Giovanni Galli Deve incidere Deve dare indicazioni Deve Parlare con i difensori Deve Leggere le azioni avversarie Cioè Deve fare in modo Con il suo impatto Sulla partita Che gli arrivi Qualche meno tiro Pericoloso E gli arrivi Qualche tiro Meno pericoloso Che gli arrivi Qualche tiro Pericoloso In meno rispetto Alla media Cioè Limitarsi A stare Ecco Questa era un po' La critica Che faceva Parlava Riccardo Appunto Il portiere La scorsa stagione Questa era la critica Che mi faceva Giovanni Cioè Al di là Di far uscire La palla con i piedi Di avere visione Di gioco Bisogna avere visioni Di gioco Il portiere Anche senza la palla Fra i piedi E non si può Pensare Che oggi Il portiere Deva solo uscire E parare Ecco Questo mi diceva Non so cosa ne pensavo Sì Concordo Concordo Evidentemente Che il ruolo Poi del portiere In questi anni Si sia Inevitabilmente Modernizzato Penso che la parola giusta Da utilizzare Sia questa Il ruolo del portiere Si è diventato Molto più moderno Rispetto a portiere Di qualche anno fa Ma come il calcio In generale Si è modernizzato Tra l'altro Riccardo Ti volevo chiedere Questa cosa Anche Mauro Se vuole dire la sua Ieri Il presidente Paolo Scaroni Parlava anche Di giocatori Il Milan Che sta costruendo Questa squadra E ha messo Il focus Sul fatto che il Milan Stia cercando giocatori Non soltanto Tecnici e veloci Ma anche giocatori Strutturati fisicamente E volevo portarti Un attimo Su questo tema La Serie A Lo sappiamo Sta andando Sempre più Nella direzione Io oggi Nel mio video Su Youtube Nel mio canale personale Ho fatto l'esempio Dell'Udinese Quando affronti L'Udinese Fai sempre fatica Perché? Perché l'Udinese È proprio l'esempio perfetto Della squadra Come lo era l'Atalanta Qualche anno fa Della squadra che corre Ma soprattutto Sono tutti grandi e grossi Sì Un po' si era capito Anche dai nomi Che sono usciti In queste settimane Che si stava cercando Anche di unire Magari la fisicità Alla qualità Però comunque Sempre partendo Da quella base lì In Serie A E' ancora Molto importante Se dovessi dire Da parte mia Devo dire che a me Non dispiace Avere un Milan Un po' leggerino Noi comunque Siamo stati Credo L'anno dello scudetto Sicuramente La squadra Che faceva più dribbling E un po' si vedeva C'era una squadra Che rischiava Che magari Però Oggi Bisogna fare entrambe le cose Ma un giocatore Per esempio Che magari è meno appariscente Dal punto di vista fisico Come Ben Nasser In realtà Lo sappiamo Che è una bestia Cioè Corre come un matto Tiene botta Tiene botta fisicamente Contro chiunque Contro giocatori Che magari Sembrano Sono il doppio Di lui Però Sì l'ideale Sarebbe averli tutti così Poi dopo Appunto anche lui È uno Che è abbastanza fragile Perché tende a farsi male Proprio perché Anche magari È portato a Essere sempre Un pochino Al limite Qualcuno nella chat Ha scritto Ci vuole un trequartista Altro Grande Grosso Che dribbling E abbia anche fisico E abbia anche tiro Ragazzi c'è Si chiama Kevin De Bruyne E gioca nella squadra È campione d'Europa Mi sa che costicchia Costicchia Giusto Giusto un pochino Sia di cartellino Che di Che di Di stipendio Ti fanno un po' di domande Ti chiedono Vediamo Vediamo Un po' di domandine In attacco Chi vorresti E ti chiedono Un tuo parere Sulla questione Degli extra Extra comunitari Perché ovviamente Sai che poi La scelta della punta Dipende anche Da esterno destro Insomma ci sono Un sacco di discorsi Che si Sono tutti concatenati L'uno con l'altro A me piace molto Quando escono Quei nomi Che a cui nessuno Eva pensato Cioè Come l'anno scorso All'improvviso Uscire che te l'aere Insomma Avere qualcuno Che sparigli un po' le carte Mi annoio un po' di più Però capisco Ovviamente Le esigenze A parlare di Morata Di giocatori che conosciamo Già benissimo E che abbiamo già visto In Serie A Un po' di effetto sorpresa Però non lo so Certo se mi chiedi Chi vorrei Vado su nomi Un po' più Altisonanti Non so Uno così Non saprei Adesso Adesso Cioè Chi sono quelli forti Io Mauro Tu Che sei esperto Su chi siamo No Devi dividerli Infattibili E non fattibili Perché se mi dici Non fattibili forti Ve la faccio breve Ve la faccio breve Ve la faccio breve Allora Noi Senza la cessione di Sandro Avevamo quel budget lì Per il mercato No? Chi dice 35 Chi dice 40 Chi dice 45 Insomma Eravamo lì E quindi Avremmo dovuto fare Un certo tipo di mercato Cioè Tenendo Evidentemente Tutti i big Fra cui tonali E Vedendo Che se si riusciva A trovare qualcosa Qualche occasione Per migliorare Un passettino alla volta Come abbiamo cercato Di fare in questi anni Ceduto tonali Iniziato un'altra cosa Praticamente Se dovessimo Ripeto Quel tipo di investimento Quel tipo di giocatore Prendere un metronomo Come Reinders O chi per esso Noi avremmo di fatto Con Diciamo Reinders Barra X Pulisic E l'Optus Cic Investito tutti i soldi Di tonali Ci siamo? Quindi torniamo A bomba Torniamo Adesso Se dovesse arrivare Reinders Noi torniamo Al pre tonali E allora lì Devi capire Se Ti devi Perché tu devi prendere Ancora un centrocampista Un esterno destro E un attaccante Quindi con quel budget Lì devi prendere tre Per cui devi Con quel budget lì Se dovesse esserci Una cessione Leggo Ripeto sui giornali Messias Punto di domanda Ballò Punto di domanda De Ketlar Punto di domanda Lexi Punto di domanda Non lo so Io spero che resti in tutti Sono tutti figli nostri Però vi cito quelli che leggete Tutti voi sui giornali Dovesse esserci Altro mercato in uscita Allora Tu Non hai più 35 40 45 Ma qualcosa in più E allora Ti calibri No Ti calibri su Se non fosse Ragazzi Se non fosse Andato via Sandro Pulisic non sarebbe arrivato Certo Perché non avevi budget Reinders o chi per esso Con quel tipo di investimento Non 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 arriverebbe L'Oftus Lo potevi Potevi prendere L'Oftus Camada Un parametro zero Sugli esterni E un attaccante Quello potevi fare Quindi adesso si tratta Caro Riccardo Di vedere che cosa succede Però non è soltanto Una questione di nomi È anche una questione di Faccio un esempio Qualche anno fa L'Inter Chi glielo diceva Che doveva prendere Geco e Correa Li ha presi Perché il 20 agosto Ha ceduto Luca Se non Non li avrebbe presi Chiaro Cioè tutto è È chiaro che poi Nella sua situazione Specifica l'Inter Non poteva Dirottare tutto il budget Di Lukaku sul mercato Ha fatto un po' Di sistemazione Di bilancio E un po' Di mercato E ha preso Quei due giocatori Però un mese prima Non sapeva L'Inter Che aveva preso Ecco noi siamo Per la prima volta Perché in tutte le scorse stagioni Noi facevamo Una cosa Prendevamo i soldi Dei ricavi Champions League E li mettevamo sul mercato Senza fare mercato In uscita Perché giustamente Avevamo da consolidare Una squadra Una struttura Una base Avevamo da Strutturarci Da essere solidi Quest'anno invece Anche per noi è tutto nuovo Perché tu Avendo dopo qualche anno Anche la possibile Vedo che su Ballot-Turé Che avrà giocato poco Ma ci sono già Nizza e Bologna Cioè Dimmi tu Se Cioè Che L'ultima La Diciamo La fase di mercato To Dal 20 luglio Al 31 agosto Sarà molto legata A quello che succede È difficile Quindi niente No no Non è difficile Niente Scusami L'altra volta Parlavamo Giovedì Semana scorsa C'era qualcuno Che scriveva di Openda L'abbiamo accennato Openda dovrebbe andare All'Ipsia Per Cifra È andato Credo O è andato È andato Un 40-45 Sì è andato Quindi Stiamo parlando di Openda Non stiamo parlando di un attaccante Fatto e finito Stiamo parlando comunque di un buonissimo giocatore In rampa di lancio Stiamo parlando di 45 milioni Ma no ma ragazzi Ma Mauro ha dato delle cifre indicative Prendetela con i guanti Ragazzi Qual è il tema? Qual è il tema? Il budget Extra Acquisto Extra vendita Di Tonali Ma ragazzi Ma sono numeri indicativi Ovviamente Ragazzi Allora Ragazzi Attenzione Fate i conti però Fate i conti Fate i conti Che Tonali era un ingaggio Loftus Pulisic Ed eventualmente Reinders Sono tre ingaggi Quindi devi calcolare Tre ingaggi E i tre acquisti Fate i conti ragazzi C'è poco da dire Dovete fare i conti Senza citarvi Dai Fate i bravi Riccardo Io ti ringrazio Avevi qualcosa Altro da dire Riccardo Avevi qualcosa Io sul mercato Sono scarso Io guardo Guardo alla fine Poi dopo alla fine Mi affeziono a tutti Quindi va bene Esatto Come dico sempre io Poi alla fine Chi arriva arriva Comunque mette la casacca Del Milan Quindi lo tifo Ma si Se viene morata Lo abbraccio Come un fratello Non c'è problema Esatto Chiunque arrivi Va bene Grazie Perché prima Riccardo Perché prima Riccardo dice No mi annoio un po' Ma se arriva Me lo abbraccio Perché siamo così Ma certo Siamo esattamente così Grazie Ciao Riccardo Grazie per essere intervenuto Ci vediamo presto Ciao 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 Allora Allora Tu sai come si chiama Love to Chick Ruben Ruben E quindi Abbiamo Abbiamo Ruben Buriani Ruben Buonasera Aspetta Aspetta Ruben Aspetta 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 Che non ti sentiamo Non ti sentiamo Adesso la regia Ti parla Adesso la regia Perché c'è Magari devi accendere l'audio Ruben C'è un problema di audio Aspetta C'è un problema di audio Ciao Ciao ragazzi Ciao Benvenuti Ti abbassi un po' la capparella Ruben Perché c'è anche un problema di luce Va bene No ragazzi Allora non funziona così Ragazzi Quando compri un giocatore Il prezzo del cartellino Va in ammortamento Per gli anni di contratto Che li fai Ragazzi Funziona così Non è che tu compri un giocatore 20 Beh gli gli dai 20 milioni Ma uguale anche gli altri Quando comprano i giocatori da te Ti comprano un giocatore E A bilancio è così ragazzi Viene distribuito con l'ammortamento Esatto Raffa Leao Ah no Raffa Leao Può far bene Ragazzi Farà bene È in crescita comunque Ci auguriamo che faccia L'anno prossimo Un altro step Importante Verso la conferma Di un giocatore Importante Quale ha già fatto vedere Di essere Grande Mauri Grazie per il tier 3 Grande Mauri Grazie Era un po' che non sentivo Era un po' che non sentivo Eh sì È in estate Sai che è così L'olio i commercialisti Is back in town No ma sapete che qua Non mi metto a fare discorsi Dai commercialisti official Ci siamo Allora ridiamo il benvenuto Ruben Buriani Vediamo se riusciamo a farlo Ci sento adesso Ci senti Ruben Ciao Ciao Io mi sento bene Grazie Ok Ciao 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 Benvenuto Ciao Grazie a voi Ruben Ruben Allora Io ti dico Sai come sono fatto Sai come sono fatto Allora Ruben Ruben Love to Chic È il secondo Ruben Della storia del Mina Nel primo sei stato No Tu sei arrivato Sei arrivato Il primo anno Hai vinto un derby Con una tua doppietta E l'anno dopo Hai vinto la prima stella Sì Quindi questo Ruben Perché lei suma Lei mi vorrebbe Vorrebbe fare questo Ah no Chiedo eh Chiedo perché Cioè suma ha appena detto Una cosa Pesante Pesante Eh sì eh Però potremmo Anche succedere Non si sa mai Come si fa A non A non Saperlo Quando è arrivato Ruben Buriani Al Milan Il Milan Aveva vinto Nove scudenti Quando arriva Ruben Love to Chic Al Milan Il Milan A venti e diciannove C'è sempre di mezzo Il numero nove Certo No Ruben Dai Ti ho tirato dentro Questa cosa Perché mi piace Perché comunque Storicamente Il secondo Ruben Della storia del Milan Lotto Chic E allora Ci hai sentito Prima chiacchierare Di mercato No Allora Volevo Chiederti Ecco Ecco Cosa 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 Pensi Ecco Come la Vedi Come la Vero Ho visto Che ci sono Ci sono Tanti Tanti Cambiamenti Dentro Prima In società Con Maldini E Massara Adesso L'accessione Di tonali E' chiaro Che ogni anno Il nostro Campionato E' sempre Fatto Di questi Avvicinamenti Ecco Se non proprio Così Immediati Ma Quasi Ecco Insomma Adesso bisogna Capire L'intenzione Di Pioli Che sicuramente Con L'amministratore E chi Per esso Avranno Avranno Fatto Una Chiaichierata Per capire Come risolvere Il problema Di questa Cessione E anche Tenendo in Considerazione L'infortunio Di Ben Asser Che bisogna Capire Per quanto Tempo Ne abbia Perciò Credo Che ci sia Tutti Il tempo Anche Se Pioli Come tutti Gli altri Natori Vorrebbero Partire Con una Squadra Ormai Il 99% Fatta Prima Di avere Le prime Partite Le prime Amichevoli Amichevoli Che in questo Momento Poi Parti Subito E vai a incontrare Squadre Trasonate Vai a incontrare Squadre Che non Di sicuramente Fare Certe figure E perciò Come tutti I natori Vorrebbero Già Quasi Il quadro Completo Del puzzle Però Il mercato È lungo Ci sono Vedi anche Questi Questi Arabi Che ormai Stanno inserendo In modo Impressionante Prendendo Giocatori Ormai Da tutto il mondo Ecco Perciò Direi che Bisogna stare attenti Bisogna capire Come muoversi E credo che Milan Lo farà sicuramente Sì che tra l'altro Il tema Il tema Chiedevano prima Anche in chat Insomma il tema Ovviamente di Di questa nuova ondata No? Della Della Arabia Saudita Che sta comprando Questi giocatori Non ultimo Proprio ieri L'altro ieri Anche Sergei Milinkovic Savic Che insomma Qua su queste Su queste chat Ne abbiamo Ne abbiamo parlato Parecchio Sì Ruben Giovedì Settimana scorsa Dicevamo Che è anche Un po' Il E' anche un po' figlio La situazione E' anche un po' figlia Di un calcio italiano Ed una Serie A Che è rimasta Un pochino indietro Parlavamo prima Con Riccardo Congiu Che il tennis Quando ha deciso Di riformarsi Completamente Ha fatto investimenti Ha fatto Ha deciso Di fare una politica Proprio di costruzione Per il futuro Oggi Probabilmente La Serie A Si trova in questa situazione Di dover Di non poter Di fatto Rispondere Alle Richeste Agli ingaggi Che vengono offerti In Arabia Saudita O che vengono offerti Anche Dalla Premier Proprio perché Andrebbe fatto Un discorso Molto più ampio Di investimenti E di ristrutturazione Probabilmente Anche della Serie A Beh io Credo proprio di sì Ma non solo A livello Di Serie A Qui bisogna Proprio ragionare A 360 gradi Se voi Che siete Molto esperti Molto attenti Vedete in Italia Quanto tempo Ci serve Per costruire Uno stadio Nuovo O qualcos'altro È chiaro Che tutti Gli investitori Vanno via Perché In altri paesi Costruire uno stadio Impegano due anni O tre anni Vedi Tottenham Con il suo Qui in Italia Neanche dopo tre anni Non è stato presentato Neanche Si è arrivato Su un tavolo Se o no Dieci domande E ci sono mille tavoli Su cui Fanno passare Perciò Diventa Diventa Estremamente Difficile Però Da un lato Fa piacere Perché vuol dire Che il calcio italiano È pettibile Perché Tanti giocatori Vanno via E vuol dire Che sono anche bravi Perché Vabbè che gli arabi Sono pieni di soldi E quant'altro Però Non sono così stupidi Da segliare I giocatori Che siano Diciamo così Mediocri O quant'altro Vanno sulla qualità E sulla quantità Certo Fatemi rispondere Ad Angelo 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 Basilicata Angelo Sì Ovviamente È collegato Però Perché nel momento In cui Tu non hai la possibilità Di fare lo stadio Ti mancano L'introiti Dello stadio L'abbiamo detto Tante volte Ovviamente Mancandoti L'introiti Dello stadio Non ti puoi permettere Di dare determinati Ingaggi Non ti puoi permettere Di andare a spendere 120 milioni Per comprare Il cartellino Di un giocatore Con tutto il rispetto Magari anche Normalissimo Diciamo Non un super Super campione Quindi Sì Quindi è tutto collegato Il fatto di non poter Fare lo stadio Non ti permette Di fare degli investimenti Ad altissimo profilo Ruben Tu sei partito Nel tuo intervento Anche dalle novità Che certamente Ci sono state Hai parlato di Paolo Hai parlato di Ricchia Hai parlato di Sandro E' chiaro che Quando ci sono Tanti cambiamenti C'è sempre qualcosa Di doloroso Di emotivo In tutta la tifoseria E quindi anche Tra di noi Però Al di là Dei cambiamenti Al di là Di chi non c'è più Avevi avuto Un po' La sensazione Nei momenti Diciamo Cruciali Della scorsa stagione Un po' In campionato Un po' Negli eurodermi Di semifinale Di Champions League Che la squadra Avesse bisogno Un po' Di una rinfrescata Che la squadra Avesse Che la squadra Dello scudetto C'era ancora Perché c'è la struttura E ci sarà ancora Ma Se non veniva rinfrescata Era un po' Arrivata Hai avuto anche tu Questa sensazione Oppure no Dimmi tu No beh Io Direi che C'è stato Un periodo In cui la squadra Come Come ci siamo collegati Altre volte Come avevo detto Altre volte Con te Mauro Verso gennaio Febbraio Che ha avuto Un calo improvviso C'è un calo Spaventoso E lì molto bene Mentre sono venute fuori Sono venuti a mancare Poi Quei punti necessari Per combattere Sino A fine Del Del Campionato Va tenuto anche Per altro conto Che Napoli Ha viaggiato A una media Spaventosa E non solo Il Milan Non ci è arrivato A raggiungerlo Ma neanche La seconda La terza La quarta La quinta È chiaro È stato un campionato Un po' particolare Però Il Milan Non ha fatto male E credo anche Che i dirigenti Quelli di cui Purtroppo Non ci sono più Avevano capito Che c'era qualcosa Da cambiare Però sai Quando arrivano Questi investitori Americani È difficile Perché vogliono Subito È tutto E chi non E chi non sta A queste Diciamo così A questa linea Che loro hanno O che optano Chiaramente optano Sempre per Il cambiamento Credo anche Che La cacciata Non è bello Dire la cacciata Però Diciamo così La non conferma Dei due Ci hanno dovuto Anche a qualche Giocatore preso E che non ha reso Per quello Che hanno speso Non credo Ruben Ruben Onestamente Non credo È una mia Non entro nel merito Non entro nel Certo Magari Per carità di Dio Ogni uomo Di calcio Però Onestamente Non credo Che siamo di fronte Chissà quale punizione Così No beh Sai Però Ho visto Considerato Che Allora Dicevo Come mai Che questo Avvicendamento È stato fatto Per quale motivo Perché Paolo Maudini Non era d'accordo Sulla linea Del presidente Ma sarà uguale Qualcosa Io L'ha inputo Su quel fatto Lì Magari Poi dopo Mi sbaglio Perché sai Come dicevo Prima Oggi Le aziende Le grandi Major Calcistiche Le grandi Aziende Calcistiche Non è questione Di presidente Proprietario Sono delle macchine Complesse Certo 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 Sono importanti Tante cose Non mi fosse Grazie Perché Non c'è Non c'è Un solo Non c'è Un solo Aspetto Però ecco Io volevo Proprio la tua Sensibilità Di campo Cioè Poi vedremo Ruben Vedremo se il mercato Lo faremo bene Se andrà bene Non abbiamo Nessun mercato Ti dà certezze Mentre lo fai Però ecco E la speranza D'anno prossimo Di vedere Una squadra Un po' Un po' Infrescata Un po' Più Veloce Un po' Più Pesante Ecco Non lo so La speranza è quella Poi speriamo di riuscirci Ruben Certo Beh è chiaro È chiaro Che I dirigenti Compli Avranno ragionato Avranno Avranno Sicuramente Optato Per Per varie soluzioni Alcuni Sono arrivati Alcuni Sono andati via E questo Farà parte Poi Della bravura Di dirigenti E soprattutto L'anatore Di sistemare Questa squadra Dove sicuramente Lui Avrà Avrà dato Delle indicazioni Su Come Rinfrescarla Come dici te O dove andare A colpire La parte più Debole Che secondo lui La squadra Ha avuto L'anno scorso È vero Che bisogna Comunque Avere pazienza Perché Non è facile In questo momento Andare A prendere Giocatori Importanti E visto Anche Come 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 dicevi te Prima Gli investimenti Il ricavo Di tonali Sono già stati Impiegati Su altri giocatori Non ancora Tutto Perché Sì Beh Insomma Gli ingaggi Su Su un giocatore Che è andato via Tre li hai presi E gli ingaggi Sono ingaggi Importanti Aspettiamo ancora il terzo Aspettiamo ancora il terzo L'ultima cosa che volevo chiederti Ruben Poi Lollo Vediamo un po' di cose Con i tifosi E con i contributi Ecco Ruben Buriani Voglio sentirlo parlare un attimo Di Ruben Loftuschik Per carità Fisico diverso E caratteristiche diverse Però anche tu Ruben Con diverse caratteristiche Partivi da centrocampo Poi ti inserivi Loftuschik L'altro giorno Lo ha detto Sì A me piace inserir Mi piace anche Andare a Dove si tira Dove si cerca di far gol Beh Credo Credo che Che fisicamente Sia Sia Un Abbia una stanza Importante Perché adesso Poi Questo sistema di calcio Chi ha questa forza Che ha queste caratteristiche Diventa importante L'inserimento Farsi trovare pronto Mi sembra di vedere Un giocatore Tipo la Cereso Quando ero a Roma Era un giocatore Straordinario Nel senso Che lo vedevi A catturare la palla E dopo tre secondi Era davanti al portiere A far gol Quei tipi di giocatori Che hanno queste caratteristiche E che sicuramente Se hanno optato Per prenderlo L'avranno Avranno valutato I pro e i contro Di un giocatore Di questo tipo Visto anche L'età Insomma A me è un giocatore Che quando lo vedevo Piaceva molto Toninio Cereso e Minas Si sono sfiorati Più volte Grazie Ruben Un abbraccio Grazie a voi Buonasera Ciao Ruben Forza Milan Grazie Ciao Forza Milan Sempre Ciao Ciao Fa effetto Chiamarlo Ruben In attesa Si poi in attesa Che arrivi anche Ruben Love to Chick Magari qua Qua da noi Ragazzi Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Allora Mauro Una domanda Che prendeva Che c'è stata fatta Parecchio dalle chat Alla quale abbiamo Già provato a rispondere Settimana scorsa È riguardo Pulisic E l'utilizzo Di Pulisic Pulisic Scusami Pulisic Hai ragione Ho visto Che ti sei Ti sei Protagonato Tratti in avanti Per correggermi Cos'è che ha detto Cos'è che A proposito Luca Serafini Oggi non c'è per un impegno Dice che ci aveva avvisato In onda giovedì scorso Tutto lo ricordi Assolutamente no Potremmo chiederlo Alle chat Visto che c'erano anche loro Ragazzi Voi vi ricordate Forse Forse Me lo ricordo E cosa ti aveva detto Eh Perché tu gli avevi detto Ma vedi come corregi sempre Lui ti aveva detto Eh così Impari a conoscerlo Eh Tra l'altro Abbiamo anche un contributo Mauro Se vogliamo andare a sentire Cosa Cosa ci ha detto Pulisic Appena arrivato A Milano Se vuoi tradurre Mauro Se vuoi tradurre Che cosa Cosa ha detto Sono molto eccitato Sono molto contento Club leggendario Peraltro Questa sarà una serata Molto importante Te lo confermo Sul fronte Pulisic Caro Lollo Mi Abbiamo anche un altro Contributo Così andiamo Andiamo a vedere Anche questo Bello E specchia Che l'ha girato Eh Sì sì E lo specchione 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 Salutiamo Fra Tra l'altro Non potevo dire Neanche questo Non potevo dire Neanche questo Si poteva dire Ma perché le chat Sono segrete Lollo E certo L'amministratore Della chat In teoria Dovrebbe essere segreto Ma si vede Che te l'ha detto E tu sei andato subito No ma io No però io Non ho detto Che era lui L'amministratore Della chat Ho detto Che ne faceva parte Ti sei salvato In corner Allora Su questa cosa Grazie D'altronde Mauro Tanto non ci segue Nessuno Perché siamo solo Un milione E due E tre Su youtube E cento E passa mila Su twitch E chissà quanti Su milan tv E appunto Mauro Tornando a bomba Quello che stavamo dicendo Pulisic Ci chiedevano Secondo te Se hai cattato Dalle parole Del mister Che tipo di ruolo Può avere Nello scacchiere tattico Del milan È l'ibrido L'ibrido Mi ricordo Una Guarda Ti racconto una cosa Tanti anni fa A milan channel Facevamo C'era Dei programmi Durante la domenica Di gioco Durante il giorno di gara Era proprio il campionato 2003-2004 Anno dello scudetto Scudetto il Diciassettesimo Vinto da Carlo Ancelotti E c'era la riunione tecnica Poi entravamo Uscivano i giocatori Entravamo noi Con la telecamera Il giornalista Eccetera E davanti alla lavagnetta Che poi Era stata un po' Scompaginata Per non dare vantaggi E avversari Diciamo Qui si è appena Strettenuta la riunione tecnica Un breve Come lo chiamiamo noi In gergo Stand up E ricordo Che Quel giorno Credo fosse Prima di minare Sampdoria Non lo so Carlo Ancelotti Mi disse Eh Abbiamo passato parte Della Della riunione tecnica Sappilo Ma non dirlo A A raccontare a KK Che il suo ruolo Deve essere ibrido E Ah vabbè Cioè Ibrido vuol dire Che deve mettersi Sì Nella zona d'attacco Deve capire Dove si può far male All'avversario E mettersi lì Non stare sempre Nello stesso posto A seconda di come si muove L'avversario E come si muove Nella partita Lui deve fare il ibrido Cioè quello che Va a puntare Va a attaccare Dove il fianco Dei nostri avversari È scoperto Va bene Grazie mister Bello Un concetto imparato Grazie E poi Tassotti e Ancelotti Lasciavano la sala Conferenze E uscivano E sentivo Tassotti Sai il suo vocione Che diceva Ma avrai capito Riccardo Che porti ibrido E non è Non è facile Non è facile Certo che Mauro La prima cosa Che mi è venuta in mente È che Enrique Kaka Era talmente forte Che dove lo mettevi Mettevi Ibrido Non ibrido Dove lo mettevi Comunque la differenza Era Era in grado di farla Però è bello La netto Ho fatto Ho fatto la supercazzola storica Per spiegarti Cosa intendo io Per ibrido Ecco intendo questa roba qua Quindi secondo me Christian Pulisic Può attaccare Dal centro A destra A sinistra E anche di fianco La prima punta Deve farlo Da ibrido Secondo me Eh sì sì Eh sì ragazzi Esattamente come Sì come sta dicendo Mauro Come state scrivendo Anche voi Può fare l'esterno Di destra L'esterno di sinistra Può fare il trequartista Può fare la seconda punta Però sapete che se Ovviamente al mister Se fai questa domanda Oramai io e Mauro Abbiamo imparato Il mister ti dice Sì ma noi non giochiamo Con un 4-2-3-1 O con un 4-3-3 O con un 4-4-2 Dipende dalla fase Della partita E dalla fase Se attacchi o se difendi Quindi Sì esatto Salvatore dice La parola giusta È duttile Non Non ibrido Sì È un giocatore Sì Ne Allora Il duttile È Chi è che Chi ha fatto l'obiezione Lollo Salvatore Salvatore Allora Salvatore Secondo me Per carità Quello è il tuo pensiero E va benissimo Secondo me Il duttile Si intende Crunice È un duttile Perché fa un po' di difesa Un po' di centrocampo Un po' di spinta in avanti Quello è il duttile In reparti diversi del campo In zone diverse del campo Invece Pencolare Bordeggiare Nella stessa zona di campo Cioè l'attacco Pencolare In posizioni diverse Secondo me Pencolare Bordeggiare Bordeggiare Significa essere ibridi Non duttile Però secondo me Intanto fatemi salutare la Ila Ciao Ila Ciao Benvenuta No ragazzi Ma su Charles Vi ripeto Vi ripeto Quello che vi ho detto Ragazzi Che vi ho detto già E l'ho detto anche nel video Anche sui miei video Ragazzi Ogni ragazzo In generale Ogni ragazzo Che comunque non riesce A esprimere quello che è il suo grande talento Comunque è una cosa Che mi dispiace Poi ragazzi Io sono sempre vicino A tutti i nostri ragazzi Come abbiamo detto prima Nel momento in cui mettono la magliettina del Milan Io tifo per loro Evidentemente Charles Fin quando indosserà la magliettina del Milan Io tiferò Tiferò per lui Ma soprattutto per noi Perché se Charles Fa bene Poi fa bene al Milan E vuol dire che vinciamo le partite Quindi ragazzi Sempre vicino Sempre vicino A lui E a tutti Il problema Non è ibrido ed utile Il problema E vabbè Ma sì Ma ragazzi Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Allora Poi vediamo altre domande Ovviamente Certo ragazzi Poi Ma quello vale per tutti Ragazzi C'è il discorso economico Vale per tutti L'abbiamo fatto tante volte per Sandro Ma vale per tutti i calciatori Evidentemente Non soltanto del Milan Ma tutti i giocatori Della serie A Tutti i giocatori Hanno comunque un prezzo Intanto Mauro torna Esatto 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 Poi vediamo Qualche domanda Sì dai Cinque minuti ragazzi Cinque minuti Lollo sa Cosa vuol dire Pencolare Ovvio Oppure Lollo pencolante No Sì Questo è Mario Questo è Mario 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 Lollo cosa mi dici Di Ciocqueze Ah ragazzi Ciocqueze È un giocatore Che ha un costo Elevato Almeno da quello Che leggiamo dalla stampa Ragazzi È un giocatore Un giocatore Con il costo elevato Ed è un giocatore Che a differenza Di altri profili Che magari ci sono stati Accostati È un giocatore più pronto Infatti costa di più Non è Non è Non è Non è strettamente Collegata questa cosa Però di solito Vediamo 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 Lolluccio Non vuoi far vedere Niente dei nuovi arrivi Sì Dai Che cosa abbiamo Regia Da far vedere Abbiamo le parole Di Ruben Love to Chick Da Ruben Da Ruben È un giocatore È un giocatore È un giocatore non ho parlato italiano, ma quando ho parlato con il coach, mi sono aiutato, ma spero che in alcuni mesi ho potuto fare queste conferenze in italiano. Prima di comprendere il peso del shirt, non solo AC Milan, ma anche il numero che ho portato per AC Milan, ma credo che ho avuto l'ambizione che voglio fare bene per questo club e aiutare l'ambizione di questo club. Quando mi sono sull'ambizione, mi devo dare tutto, come ho sempre, e ho capito. Ma per AC Milan questa settimana, io credo che, collegamente, vogliamo continuare a migliorare. AC Milan ha avuto la Semi Finale in la Champions League, che è un'unico successo, ma per me, ogni competizione, quando siamo arrivati, dovremmo venire, e questo è il target. Puli, credo che arriva domani, ma ho parlato con lui e ho detto di fare il suo meglio per venire qui, perché è un giocatore ottimo e un'ottima addizione alla squadra. Grazie. Grazie. Loftus Chic vi parla di una trattativa che è iniziata, addirittura lui dice di aver parlato con Paolo a inizio anno. Cioè, sono tutti i movimenti di mercato, i giocatori arrivano magari dopo mesi dalla prima volta che si parlano. Quindi sì, non è che il Milan ci mette tanto, è in generale fare le trattative che ci vuole tanto. No, beh, Loftus ha raccontato appunto che la società, perché per me il Milan è sempre il Milan, io parto da questo punto di vista. Poi aveva avuto quest'occhio Paolo Maldini, era stato Paolo Maldini a far sapere al suo agente dopo Milan-Celsea, ritorno quello che perdiamo 2-0 con quell'espulsione di Tomori dopo 18 minuti, è lì che il Milan, Paolo Maldini, fanno sapere alla gente di Loftus che la sua prestazione è stata apprezzata. Però sai, dai primi contatti a tenersi aggiornati, poi la trattativa vera e propria, poi passa inevitabilmente del tempo, in qualsiasi fase, in qualsiasi situazione. Io dico che, ripeto, noi abbiamo iniziato questo mercato avendo, dopo la cessione di Sandro, avendo tempo, avendo un buon budget, però avendo sempre chiaro di voler pagare i giocatori per il loro giusto valore. Questo io ve l'ho sempre detto. Quindi se non c'è il giusto valore, e allora finché non si raggiunge il giusto valore le trattative vanno avanti. Quindi questo ci tenevo a dire. Concordo pienamente. Dimmi? Vuoi sentire anche Sportiellona? Sì, andiamo a sentire anche le parole di Marco Sportiello. Essere qui è un sogno, ma non lo dico tanto per far vedere il nuovo arrivato, quindi deve subito... Una cosa è fatta. Esatto. Per me è davvero un sogno, infatti devo ancora un po' realizzare, anche se comunque è un po' di tempo che sapevo del mio cambio, però io credo di sì, perché credo di essere appunto maturato molto, soprattutto negli ultimi tre anni, due o tre anni, e quindi sì, io credo che sia stato il momento giusto. Quando abbiamo giocato una delle prime partite con il Milan in campionato, io ho detto al Ministro che questo era fortissimo. Secondo me era un portiere davvero... Dopo Donnarumma comunque è difficile andare da rimpiazzare un portiere così importante. E io gli ho detto subito che secondo me questo, non voglio dire che è più forte, però ho detto che questo qua è un portiere molto importante. infatti mi ha confermato anche lui questo, ovviamente, perché è sotto gli occhi di tutti, però vabbè io non credo che ci siano. Io mi sono sempre adattato a tutti, mi sono sempre trovato benissimo, anzi per me, anche se comunque ho 31 anni, non sono giovanissimo, però secondo me io posso imparare tanto da lui, ed è quello che voglio fare. Antonio è grande, quindi è lui che deve dare a me, quindi lo ascolto e basta su Magnanne. Non lo so, a me sembra già un portiere molto inquadrato, che non credo che abbia bisogno di altre cose o di altri, diciamo, tra virgolette consigli. Però secondo me si può, diciamo, tra virgolette aiutare dando ritmo magari agli allenamenti, stimolarlo. queste secondo me sono le uniche cose che posso dargli, però lui è già un portiere importante, già un portiere formato, non è un ragazzino, è già molto maturo rispetto comunque a tanti altri portieri, ha già vinto dei campionati, ha già vinto il campionato in Francia se non sbaglio, ha già vinto il primo anno lo Scudetto qui dopo un po' di anni, quindi è un portiere importante. Io posso dare solo quello, dare forte in allenamento, essere affidabile, è quello che voglio dare a tutti. Parole di Marco Sportiello, mi hanno colpito anche qua, ti do subito un mio feedback quando parla di sogno, parla di Milan, finalmente sono al Milan, bello, mi ha dato subito un feedback quasi da tifoso, come se ci fosse lì un tifoso a fare la conferenza. Non sembrava neanche una conferenza, sembrava una chiacchierata a cuore aperto fra persone, poi due calciatori, noi eravamo i cronisti dall'altra parte, però è stato molto bello. Allora Lollucci, è venuto a trovarci, se mi sembra tutto pronto Lollo, che dici? Stefan sì? Ok. Prego Mauro. Ok. Allora, io sai che giro molto fra i Milan Club, di recente sono stato in Calabria, era presente anche la Champions League, proprio il trofeo vinto a Manchester nel 2003, il Milan Club di Ciro Marina, e ho conosciuto questo giovane giornalista che si chiama Attilio Malena, al quale volevo fare un po' di domande, legate alla Calabria e al Milan. Attilio, buonasera. Eh, non ti sentiamo. Aspetta che non ti sentiamo, recuperiamo l'audio un secondo. Devi alzare il volume secondo me, devi accendere l'audio. No, no, non ti senti. Aspetta eh, rifacciamo un attimo il backup con la regia, regia gentilmente. Intanto leggiamo qualche commento Mauro, ci dicono molto umile sportiello, grandissima persona. Sì, Roby. Esatto, esatto. Grazie Steph. Sistema Steph, fai tu quando poi, quando ce l'hai, lo rimandiamo dentro. Eh, esatto ragazzi, quello che stavamo dicendo io e Mauro. Sì, sì, ha dato l'idea proprio di essere una, una bravissima, bravissima persona. Eh, Icardi, ragazzi, Icardi non lo, Icardi dovrebbe andare a restare al Galatasaray, mi sembra di aver capito 10 milioni di euro di stipendio. Sì, sì, sì. Eh, Mauro, quelle sono, sono cifre che, che noi ovviamente non noi, la Serie A in generale, fa fatica comunque a dare. Eh, sì, esatto ragazzi, finalmente andate in Calabria, sì esatto, bellissima la Calabria talalto. Ragazzi, adesso vediamo se riusciamo a recuperare Attilio e torniamo da lui. Attilio, vediamo se adesso ti sentiamo. Ciao, ribenvenuto. Sei. Arinciamo a tutti quanti, buonasera. Oh, adesso ti sentiamo. Poi la macchinetta, Attilio, quando comincia parla, eh, quindi è un peccato non sentirlo, insomma. Allora, Attilio, senti, volevo chiederti un po' di cose. La prima è di Marco Nasti. Marco Nasti è un nostro ragazzo, l'abbiamo visto qui il giorno del raduno, il 10 luglio, pochi giorni fa, ha lavorato, si è allenato, è stato con noi in primavera, ha fatto gol importanti. L'anno scorso ha deciso la stagione del Cosenza. Cioè, eh, Marco Nasti, per come è stato visto e vissuto in Calabria, a Cosenza, che tipo di giocatore è e che tipo di giocatore può diventare, Attilio, secondo te? Un giocatore, per quanto riguarda la stagione del Cosenza, decisivo, senza dubbio, perché nella stagione del Cosenza c'è stata una slide indoors, il derby contro la Regina. Guarda caso, dall'altra parte c'era un grande ex, rossonero, un altro grande bomber come Pippo Inzaghi. Quella gara poteva consegnare al Cosenza speranza e dall'altra parte poteva di fatto condannarlo quasi alla retrocessione. E lì è arrivata una doppietta strepitosa di Marco Nasti, dimostrando tutte quelle che erano le credenziali. E ricordiamoci che Marco Nasti era la prima stagione effettiva da protagonista in un campionato vero senza nulla togliere a quello primavera. È arrivata questa doppietta, da lì è cambiato il destino del Cosenza, è cambiata la stagione di Marco Nasti, che è diventato il beniamino dei tifosi, un attaccante decisivo in grado di prendersi tutto il Cosenza sulle spalle. Ed è per questo che di fatto è diventato in questa sessione un uomo mercato. Non è un caso, ribadiamo il concetto. Marco Nasti è un attaccante che ha un grande futuro davanti a sé, ma per quanto riguarda il Cosenza senza dubbio è stato uno di quegli attaccanti in grado di spostare gli equilibri. I tifosi rimpiangono il suo mancato ritorno, ma era necessario fargli fare un ulteriore upgrade per il suo percorso di crescita. Però per quanto riguarda la stagione attuale, ripeto, era la prima stagione da protagonista e ha dimostrato di avere delle doti anche a livello di carisma e di personalità non comuni per la sua età oggettivamente. Allora, Lollo, io poi ti lascio a Tiglio, gli chiedo quest'ultima cosa e ti lascio a Tiglio, anche per i nostri tifosi. A Tiglio, in questo momento la regina non è in Serie B, no? In questo momento è in Serie C, farà ricorso e vedremo, insomma, in Calabria ci sono speranze ancora di... Ecco, Pippo Inzaghi, grandissimo della storia rossonera, vari record, vari palmares nel cuore di tutti i tifosi. Pippo Inzaghi come sta vivendo, secondo te, quest'estate, dopo che ha dato tutto per la regina della scorsa stagione? Ma io credo, conoscendolo e quanto abbia dato la regina e per come si è presentata ai tifosi della regina, molto male, perché credo che tante promesse nel corso della stagione non siano state rispettate. Nel mercato di gennaio Pippo Inzaghi si aspettava un mercato di peso proprio per puntare alla Serie A. Ricordiamoci che la regina, prima del mercato di gennaio, era secondo in classifica. Poi è precipitata per via dei tanti problemi che ci sono stati e Pippo Inzaghi ad un certo punto si è trovato ad affrontare qualcosa più grande di lui, dimostrando di avere le spalle larghe e dimostrando di credere poi alla fine in un gruppo che fino a quel momento gli aveva regalato tanto. Alla fine del campionato l'obiettivo è stato raggiunto portando la regina, nonostante tutti i problemi che ci sono stati e li stiamo vedendo adesso, all'obiettivo dei play-off. Poi all'interno dei play-off è stata persa una partita per tanti errori, per grande sfortuna, ma Pippo Inzaghi, la regina, ha avuto senza dubbio un impatto positivo. Sono state più le cose positive che le cose negative. Ma questa fase la sta vivendo chiaramente, secondo me, con un grande amaro in bocca perché la regina gli aveva ridato la voglia di allenare, la voglia che aveva perso a Brescia. Sono parole sue in tutte le salse spiegate quando è arrivato a Reggio Calabria, ma non è un momento facile, anche perché ritrovarsi dopo aver fatto un ottimo lavoro senza panchina non deve essere semplice, anche perché l'impegno che la famiglia Inzaghi, e quando parlo di famiglia intendo anche la compagna, ha dato alla città di Reggio Calabria è stata una cosa veramente straordinaria perché la compagna di Pippo Inzaghi, Angela, ha dato vita a diversi progetti di solidarietà a Reggio Calabria, ha fatto più di quanto si possa veramente, di quanto era preventivabile all'inizio campionato. Per cui la regina Pippo Inzaghi sembrava potesse essere un connubio in grado di poter continuare nel tempo, non a caso i tre anni di contratto che gli sono stati fatti ne erano la testimonianza lampante, ma evidentemente non doveva andare così. Infatti ti giro un po' i commenti delle chat, ovviamente tutti innamorati di Pippo Inzaghi, purtroppo poi le cose non sono andate tanto bene. Bene, allora ti giro, due saluti, primo ovviamente da tutti i fratelli rossoneri calabresi che ti stanno salutando un po' da tutte le chat, poi ho un saluto particolare per Mauro che dice ciao Mauro da Austin, Texas. Forza Milan, suma ti voglio bene, vieni anche tu in America a Los Angeles, ti chiedono direttamente. Allora Tilio, ti leggo un po' di domandine se ti aspetti sul Milan, eh? Austin, Texas. Austin, Texas. Austin, Texas. Così puoi andare la a fare lezione e migliorare il tuo inglese, Mauro. Beh, insomma, loro sono americani, eh? Non sono inglesi. Eh, sì, l'americano. Mamma mia com'è pignolo. Tilio è troppo pignolo. Devi andare sempre lì a... L'americano si intuisce di più, quindi potremmo anche essere abituati ad un inglese abbastanza diverso rispetto all'inglese quello vero, poi. È vero. È vero, è vero. Tra l'altro, no, così, una piccola curiosità. Per imparare bene l'inglese bisognerebbe sempre ascoltare le canzoni dei Queen. Perché se tu ascolti le canzoni dei Queen, l'inglese utilizzato da Freddie Mercury è uno degli inglesi più capibili in assoluto. Vabbè, torniamo a noi. Attilio, ti chiedeva le chat, ti chiedevano, insomma, Milan, di dare un tuo parere su quella che è stata la stagione del Milan e su quello che è questo calciomercato, stagione che arriva. Un tuo pensiero generale, così, sui rossoneri? Ma, si apre una nuova era. Di fatto, senza Paolo Maldini è un nuovo percorso, quello del Milan che sta intraprendendo. Sul mercato, chiaramente, tutti ci aspettiamo un po' il centrocampista che potrebbe essere in arrivo da un momento all'altro e stesso discorso vale per l'attaccante. I profili che si stanno seguendo sono molteplici e penso che in questo senso la centralità che ha assunto Pioli all'interno del progetto possa essere una garanzia su come effettivamente i nuovi acquisti possano integrarsi da subito nelle idee del tecnico. Sulla stagione del Milan credo che, nonostante tutto, sia stata una stagione positiva vista la semifinale di Champions, visto comunque il ritorno da una parte nelle competizioni che contano. Però serviva un nuovo slancio, serviva, secondo me, un'aria fresca. Paolo Maldini è un'icona del Milan, non possiamo nasconderlo, mancherà. Però bisogna anche dar fiducia in questo momento alla triade che aveva già fatto delle cose positive, soprattutto Moncada. Non dimentichiamo le scoperte di Calulu. Tutti adesso tendiamo a ricordare l'acquisto di De Cauteler, che per carità sarà stato un acquisto sbagliato, ma vedremo anche come finirà, poi se rimarrà al Milan o meno. Ma questo Milan merita fiducia e poi eventualmente andrà giudicato dopo la fine di questa sessione di mercato, premesso che sia un mercato difficile per tutti, non solo per il Milan, travolto dall'Arabia Saudita in questo mare che si sta andando a scontrare con quelle che sono le difficoltà oggettive economiche del calcio italiano. Quindi pazienza e fiducia, secondo me, nel nuovo corso. Poi ci sarà tutto il tempo eventualmente di fare delle valutazioni positive o negative che siano. Assolutamente, fate le chat, stanno concordando con te. Acquisti, vediamo un'ultima domandina. Chiedevano a te, chiedevano a te di Pulisic, perché Pulisic, sennò poi Mauro mi corregge, Pulisic. No, perché, fare il maestrino mi piace, ma non lo nascondo, però credo che non ci tenga molto. Ma va? Ma va, Mauro? Ma va? Credo che sia lui che ci tenga molto. Poi glielo chiederemo. Glielo chiedo? Dai, poi glielo chiedo. Va bene? Va bene. Va bene. Va bene. Pensavo adesso, pensavo dicessi glielo chiedo adesso. Poteva anche succedere. No, glielo chiedo, glielo chiedo attorno alle 19.15. Va bene? Allora, no, 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 no. Andiamo con l'inno. e ragazzi, ultima, no, ti chiedevano adesso Attilio, vediamo se riusciamo a recuperarlo, vediamo se riusciamo a recuperarlo, se no, se no lo salutiamo. Domande? Sì, ragazzi, fatele, fatele. Oh, ricordiamo Lollo che oggi è stato, Lollo, oggi è stato annunciato il rinnovo del contratto di Shaka Traoré. Ah, è vero. Eh, volevo parlare anche di quella cosa lì. Volevo parlare anche di quella cosa lì, poi bravo Mauro, mi sono dimenticato. Sì, ragazzi, ovviamente rinnovo di Shaka Traoré fino al 2028, Mauro aiutami. Sì, 28. 30 giugno 2028, eh, ragazzi, Shaka è uno delle nostre, con tanti altri giocatori, lui è uno delle nostre stelline. Era importante metterlo al sicuro con questo rinnovo e molto bene, ragazzi, molto molto bene. Intanto Attilio vedo che è tornato, dateci almeno la possibilità di salutarlo. Lo salutiamo. Lo salutiamo, Attilio. Però quando arrivano chiamati di telefono, quando arrivano chiamati di calciomercato in questo periodo, è così. Cadono i collegamenti, quindi dobbiamo far fronte. Come Serafini. Come Serafini. Come Serafini. Attilio, grazie di cuore per essere passato da noi. Un abbraccio, a presto. Grazie. Con piacere. Ciao. Ciao, da Silvio Malena, giovane esternalista calabrese, che ha collaborato anche a testate nazionali. Allora, Lulluccio, andiamo di domande, o andiamo a Ciacca tra ore fino al 2028, importante, eh, un rinnovo importante. Importantissimo. In tanti ulteriori step di crescita che dovrà fare il ragazzo. Eh, no, no, guarda ragazzi, lo dico anche qua, ma Mauro ne lo sa, è una cosa che ho visto prima che lo scrivevano, Mauro. Io oggi ho detto che, al netto di quella che poi è stata la cessione di Sandro, se si è bravi a fare degli investimenti, e sono sicuro che sarà così, puoi costruire una squadra che può essere anche più competitiva rispetto alla squadra l'anno scorso. Poi in base agli investimenti... Lo aspettiamo, lo aspettiamo. Ma è una considerazione, è una considerazione, ragazzi. Sì, 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 una considerazione. Però sai, sembra che siamo affannati nel farla, non ci deve essere nessun affanno. Noi stiamo lavorando pancia a terra, stiamo lavorando credendoci, stiamo lavorando con tanto amore per il lavoro, con tanto amore per il Milan, e vogliamo fare una bella squadra. Guarda, faremo una bella squadra... Allora ti do un virgolettato, col sorriso. Me l'ha detta proprio col sorriso, tranquillo, ma non perché doveva... Gli è venuto. Faremo una bella squadra. Frase di Geoffrey Moncada a Sumamauro lo scorso 10 luglio. Quindi, ragazzi, questo è l'obiettivo. Poi vedremo quello che succederà. Però il mercato è fatto lollo di troppi incastri, troppe situazioni per cui dire adesso rischia di essere prematuro. Andiamo avanti a lavorare e poi vediamo cosa succede. Ok, ok. Intanto vedo che Ben dovrebbe già essere pronto, quindi diamo il benvenuto a Benedetto Di Blasi, ovviamente. Fondazione Mila. Ciao Ben, bentornato. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ho visto che sei caricato, ho detto chissà cosa deve dire. Hai aspettato qualche secondo, invece no. Avevo visto lo salutarci normalmente. Salutavo bene. Salutavo bene la chat soprattutto. Ciao. Ciao. Fondazione Milan, che leggo perché mi sono preparato, benedetto, è stata ed è protagonista di un contest, io vengo dallo sport, che mi sembra pieno di significato e pieno di senso come concetto e come iniziativa. Esatto, Mauro. Questa è un'iniziativa di Sport e Salute che ha visto coinvolte 300 società sportive, tra cui anche ovviamente la nostra, la nostra intesa come chiaramente la Cmila nel settore giovanile in particolare. infatti mi ricollego al pensiero di Ciacatro Re di prima e devo dire che è stato preparato un video che fondamentalmente questo contest voleva cercare di diffondere il messaggio del tipo positivo dell'inclusione e il nostro club è stato premiato insieme ad altre due società e ha vinto un premio. Questo premio è stato voluto donare dal settore giovanile a noi per poter risistemare un campo di cui daremo poi notizia, insomma, nelle prossime settimane qui a Milano. Quindi da questo gesto veramente bello e importante dei ragazzi del nostro settore giovanile andremo a mettere un ulteriore tassello alla nostra città di Milano che amiamo tantissimo e che rivedrà, vedrà ritornare, insomma, a protagonista un campetto che in questo momento non è più, purtroppo non è utilizzabile e che diventerà invece un nuovo motore di integrazione, di incontro per tanti ragazzi della città di Milano. Quindi, insomma, in questo caso veramente ringraziamo il settore giovanile per quello che ha fatto e noi ci faremo, appunto, saremo in questo caso tramite per realizzare questo campetto a Milano di cui poi, insomma, vedrete e avrete notizia nelle prossime settimane. Potremmo forse far vedere anche il contributo che è stato realizzato a tal proposito, Stefano se ce lo puoi lanciare che ci do. No, ben, no, mi dicono di no. Ok. Mi dicono di no. Va bene. Poi dopo... Va bene, non ha successo niente. Dopo 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 vi spiego, è successo niente di importante. Eh sì, no, stavo pensando, ottima, ottima iniziativa, come sempre, riqualificazione di posti, terreni, situazioni che necessitano di un aiuto, quindi dare, come diciamo sempre, dare comunque un obiettivo, dare qualcosa da fare, dare un aiuto, stare vicino magari a qualcuno che ha bisogno di necessità e di un aiuto, sempre cosa molto, molto importante. Quindi concordo assolutamente con te, Ben. Ecco, e poi... E poi questo... No, no, vai Mauro, vai Mauro. No, dicevo che sia Benedetto Di Blasi che Rocco Giorgiani quando vengono a rappresentare Fondazione Milan qui con noi nella live di Sempre Milan, ci raccontano anche non soltanto iniziative, non soltanto organizzazione, non soltanto finalizzazione, ma anche storie umane, storie di vita, storie di persone chiamate per nome, come quella di Francesco, no? E come tante altre che ci avete raccontato nelle scorse settimane, Benedetto. Bravissimo Mauro. Infatti l'obiettivo poi è quello di raccontare qual è l'impatto di Fondazione Milan, che poi sono le storie di cambiamento di tantissimi ragazzi e ragazze che incontriamo. Io penso alla storia di Francesco, che poi si può andare a leggere sul nostro sito insieme a tutte le altre storie dei ragazzi che beneficiano del sostegno di Fondazione Milan, grazie al contributo del club, grazie al contributo dei nostri donatori, e che appunto è una storia bellissima in cui lui racconta di questa uscita dalla bolla, cioè lui che aveva una serie di problemi suoi personali, in questo caso poi colpito da una, insomma, con una disabilità legata alla disprasia e quindi aveva difficoltà appunto nei movimenti, e si è voluto mettere in gioco grazie alla sua tutor che vediamo qua in foto, Titti, che io ho anche conosciuto a Reggio Emilia, dai nostri partner di CSV Emilia, ed è stata una bellissima occasione perché io questa storia me la sono sentita raccontata dai protagonisti, quindi da Francesco e da Titti, e dovevo dire che poter tornare in campo, mettersi in discussione, noi lo sentiamo sempre dire dai nostri campioni, dai nostri giocatori, ma poi quando i ragazzi seguono questi esempi, si sentono poi, anche utilizzando le parole che utilizzano i nostri giocatori, di rimettersi in discussione e di tornare in campo, ed è molto bello poi vedere queste esperienze che tornano in campo, insomma, di persone, di ragazzi che si rimettono in gioco e che appunto, grazie al contributo, al sostegno da parte nostra, dei nostri donatori tifosi, arrivano proprio appunto a ritornare a calcare i campi da gioco, ed è una cosa veramente veramente molto bella, quindi insomma, di storie così ne abbiamo tante, seguiteci, leggete quelle che pubblichiamo sul nostro sito e anche sui nostri social, su Instagram e su Facebook, per cui siamo lì ed è l'occasione per conoscere meglio veramente quello che facciamo, che poi i risultati sono questi, ecco. Certo, anche ti ti sarebbe bello poterla avere qua come ospite, eh, per farci raccontare anche da lei l'esperienza. Certo, che possiamo provare, dai, una volta le invito assolutamente, dai, la puntiamo così, perché poi le sono tante storie, lei è una tutor, è una tutor che racconta, che ha avuto modo di seguire tanti ragazzi del progetto che c'è lì a Reggio Emilia, e devo dire che è non soltanto calcio, si fa danza, si fa, si fa veramente di tutto, e perché lo sport ha questo, questo, per questa attività è veramente la scusa per ricominciare da capo e potersi rimettere in gioco, quindi sicuramente la possiamo provare a invitare. Molto volentieri. E poi Benedetto, e poi Benedetto sono ricominciate le aste di sostegno? Assolutamente, quindi ritornando poi al discorso del sostegno, quindi tutto quello che riguarda poi, insomma, l'attività anche di finanziamento di Fondazione Milan, che vi ricordo tramite il 5x1000, tramite le singole donazioni, poi c'è la possibilità eventualmente di aggiudicarsi. Prima eravamo con il nostro amico di Reggio Calabria e qui c'è un'asta che riguarda una maglia firmata da Pippo Inzaghi, come vedete, quando è venuta a visitarci qua a casa Milan, insomma, lì ce n'è una che tra 23 ore scade, per cui, insomma, bisogna anche un po' star lì alla finestra e fare la propria puntata. C'è anche l'occasione in questo caso, per esempio, anche di poter avere un posto come mascotte già per Milan-Torino del 26 agosto prossimo, per cui anche queste sono attività che noi ricordiamo facciamo perché servono proprio per sostenere i ragazzi come Francesco per poter fare sport, che per loro è veramente un ancora di salvezza. Per cui è tutto collegato dall'iniziativa di cui abbiamo parlato all'inizio, io vengo dallo sport, la storia di Francesco, fino appunto alle necessità di raccolta fondi che si esplicano poi attraverso una serie di iniziative come le aste in questo caso, insomma, e tanto altro. Per cui stiamo sempre sul pezzo, anche se siamo ormai a metà luglio e fa caldo, ma continuiamo, no? Allora, anzi, ricominciamo a lavorare, perché ragazzi, la stagione è ricominciata anche per noi, eh? Intanto ho visto che lo chiedevano, sì, c'è anche una sacca dei New York Yankees, ragazzi, sempre dentro ovviamente Charity Stars, dove trovate la zona dedicata a Fondazione Milan, e dice che i New York Yankees, ovviamente per chi non lo sapesse, sono una squadra professionistica di baseball della Major League, della MLB, e con sede a New York, e anche quello è un... Giants, loro sono Giants del baseball, noi siamo Giants del calcio, quindi gli americani dicono Giants. Una fantastica joint venture, diciamo così. Bene. Ben, abbiamo altro? Sapete che non ricordo a memoria? Scaletta completata, ragazzi. Questa volta siamo stati velocissimi. Velocissimi, per la prima volta però... La magliette è bella, benedetto, eh? La magliette è bella. Grazie, grazie, insomma, diciamo che... I colori giusti, ecco, i colori giusti. Bene, bene, bene. Ben, grazie di cuore, dai, ci vediamo giovedì di settimana prossima. No, benedetto. Un abbraccio. Grazie a voi, ragazzi, state bene, a presto. Ciao, forza mia, sempre, ciao, benedetto. Grazie, 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 grazie. Sì, ragazzi, sì, sì, è questo, l'url, ve lo metto anche di qua, ragazzi, sì, sì, se volete, guardate, ve lo metto... Oh, aspettate un attimo, ve lo copio così ve lo metto. È Charity Stars, ragazzi, basta che scrivete Charity Stars, Fondazione Milan. Andate lì, fate la vostra offerta e vedete che cosa... Intanto c'è Gary che ti dice, e ti dice, su, ma come stavi in B? Bene. Io, felice, felice, andavo a tifarmi il mio Milan, perché? Sei curioso? No, 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 ha scritto così, perché ovviamente viene utilizzato, no, come sai che ogni tanto c'è sempre qualcuno che esce fuori questa storia della B, ragazzi, noi inviti, io no, perché ero piccolo, ma presumo che i B ti fanno esattamente come in A. Cioè, non è che... È una cosa dei 40 anni fa. Tu hai nato? Tu c'eri? Che anno era? L'ultima volta che anno era. No, ma non so, dicendo al vento, dicendo al fenomenale... Ah, a Gary. Con la Cavese, sì, con la Cavese. No, non c'ero, non c'ero. Però col Varese, con i tre gol di Vinicio Verza, c'ero, assolutamente. E poi quella squadra lì, la squadra della Serie B a fine stagione batte l'Inter 2-1 nel Mondialito Club. A San Siro, davanti a San Siro, sold out, tutto esaurito. Quindi, non so, tu c'eri? Gary, c'eri. Tra l'altro, Mauro, scusa, mi hai dato un assist. Tifosi rossonieri che anche quest'anno sono stati vicinissimi con la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione che arriva. Sì, sì, sì. A 41.500 il Milan ha chiuso la prima fase della campagna abbonamenti. Un mese... Cioè, siamo arrivati a quota 41.500 un mese e mezzo prima della scorsa stagione. Quindi, un amore fantastico, un amore pazzesco. Roberto, Lollo, Frimpong o Mazzaroui? Non lo so, ragazzi. Mazzaroui. Vediamo Mazzaroui. Sì, sì, dipende, dipende. Vediamo cosa succede. Niente, Gary, Gary si è fissato con te. Sì, ragazzi, sì. Ma credo sia... No, adesso ti sta chiedendo della Mitropa Cup. Credo che sia... No, intendo. Intendo. Perché di solito sono i nuovi, i nuovi, credo che sia interista, i nuovi tifosi dell'Inter sono, queste cose, sono delle percolate che non usano più. Quindi presumo sia un tifoso dell'Inter. No, perché sai, e gli spiego magari perché siamo diversi, perché noi, l'importante è che giochi il Milan, con chi giochi il Milan, dove giochi il Milan, questo è relativo. Per noi al centro c'è il Milan e solo il Milan, non l'avversario dove si gioca. Gioca il Milan la nostra squadra, la nostra fede, la nostra storia. Quindi viva il Milan. Quindi serie A, serie B, serie C, Champions League, mondiale per club, noi siamo il club sette volte campione d'Europa e quattro del mondo, non so tu. Però voglio dire, sia nella gioia, noi siamo una squadra nella gioia e nel dolore, e siamo sempre gli stessi, ci siamo sempre. L'importante è che giochi il Milan. Non andiamo a guardare contro chi gioca o dove gioca. Abbiamo 40 secondi, Mauro. Ti dico cosa dice mio papà quando ti dicono questa storia dell'avvio, della Mitropa. Il mio papà dice, vabbè, ho passato quegli anni lì, ma poi nei vent'anni successivi non ho vinto una volta, ho vinto più volte tutto quello che si poteva vincere nel calcio. Lo rifarei molto volentieri, visto il premio che poi dopo mi sono portato a casa, come tifoso dell'Io. Senti, c'è Cianc, c'è Cianc che stuzzica, eh. Non lo sappiamo, ragazzi. Rimanete collegati e vediamo cosa succede, ragazzi. Rimanete lì e vediamo poi che cosa... Dobbiamo chiudere, ah, dobbiamo chiudere. Ciao a tutti, ragazzi. Un bacio. Each week. Each week. Ciao. Ciao, ciao a tutti, lo scopriremo dopo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao! Ciao! 1-8-9-9 È la data che tengo a memoria AC Milan uguale vittoria In Europa si è fatta la storia Grazie a tutti! Grazie a tutti!